Il 23 marzo scorso, dopo 61 giorni di sciopero della fame, il segretario generale del sindacato autonomo di Polizia Gianni Tonelli è stato costretto dalle condizioni di salute in primis e dalla pressione esercitata dai propri quadri a passare il testimone per continuare a svegliare le coscienze di coloro che continuano ad ignorare l'esigenza di investire soprattutto in un momento come quella attuale nella sicurezza. A quasi 90 giorni nulla si è mosso. A Castrovillari, nella centralissima piazza municipio, il SAP con un gazebo si schiera apertamente al fianco del suo segretario generale. I motivi alla base del gesto, la volontà di mettere in luce le reali condizioni dell'apparato della sicurezza ormai debilitato da anni di tagli. Armamenti vecchi di 40 anni, giubbotti antiproiettile prossimi alla scadenza non più idonei agli attuali servizi di polizia, caschi da ordine pubblico marci, autovetture di servizio logore con più di 200.000 chilometri, vestiario insufficiente e inappropriato, personale sempre più vecchio, con una media che rasenta i 50 anni, pulizia degli uffici e delle caserme, pressoché inesistenti elezioni di aggiornamento professionale, non all'altezza del periodo storico che stiamo vivendo, con un accorso teorico di poche ore e per di più tenuto con delle slide. Purtroppo, nonostante si parli tanto di terrorismo, nulla di positivo accade. Dobbiamo confrontarci, continua il SAP, quotidianamente con carenze di ogni tipo che vengono superate solo grazie allo spirito di sacrificio degli operatori. Con questa manifestazione, anche il SAP di Castrovillari si appella al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviandogli numerose cartoline perché intervenga al più presto a porre la sicurezza realmente ai primi posti della propria agenda parlamentare, nella consapevolezza che non può esserci sviluppo senza un'adeguata sicurezza del paese. Analogo appoggio, il sindacato autonomo di polizia chiede a chiunque voglia farsi parte attiva. Grazie a tutti.